Buongiorno a tutti ragazzi, sono Benny Mangone e oggi sono qua da Maletti Group per presentarvi l'Eden. Cos'è l'Eden? L'Eden è un vero e proprio strumento di sviluppo per i saloni. Perché? Perché abbiamo la possibilità di far vivere alle nostre consumatrici un'esperienza unica. Abbiamo una grande fortuna perché la consumatrice cosa fa? Parte da casa, si fa bella, viene da noi, ci paga e ci fa pubblicità. Quindi l'Eden ci dà veramente l'opportunità di creare un ambiente unico e generarci passaparola. Guardiamo un po' quali sono le caratteristiche dell'Eden perché non è un semplice lavattesta. Allora abbiamo innanzitutto una cover con la possibilità di mettere all'interno le mani per creare un ambiente unico all'interno del lavaggio. In più abbiamo un led luminoso che crea un'atmosfera sensoriale, un erogatore di vapore caldo che permette alle squame di aprirsi e quindi le tecnologie che abbiamo all'interno del salone diventano più performanti perché come ben sappiamo il vapore aprendo le squame le tecnologie penetrano più in profondità. Allo stesso tempo abbiamo un ebulizzatore di vapore freddo per andare a chiudere le squame. Poi abbiamo la poltrona con un touch che con un semplice touch si alza e si abbassa. Questo per avere il massimo comfort delle nostre consumatrici. Abbiamo una serie di touch che possiamo utilizzare sia con le mani bagnate che asciutte dove possiamo andare aumentare l'erogazione di vapore. Abbiamo due tipi di programmi in base ai ritueli che stiamo effettuando. Abbiamo una luce UV che va a disinfettare quello che è l'erogazione dell'acqua. Anche se acqua demineralizzata i raggi UV ci permettono comunque di usare una tipologia d'acqua proprio pura se si può dire. Possiamo ricaricare quello che è il serbatoio in maniera automatica perché questa qua è la versione 2.0 quindi è tutta automatizzata. Che dire abbiamo tanti vantaggi che possiamo utilizzare con l'Eden. Addirittura per quanto riguarda i ritueli perché non possiamo utilizzarlo come un lavatesta tradizionale ma dobbiamo valorizzarlo. Dobbiamo valorizzarlo perché comunque quello che oggi cerca la consumatrice è sempre più professionalità e oggi l'Eden ci permette di essere agli occhi della consumatrice ancora più professionali. Quindi ragazzi cos'è Eden Plus? È un valore aggiunto per i vostri saloni che vi genererà più clientela nuova e sarete più professorali ai loro occhi. Provatelo come abbiamo fatto già noi nei nostri saloni di Zobaldi. Ciao!